L'anno passato ci ha mostrato nuove esigenze e nuove modalità per garantire il benessere delle persone sorde in situazioni di crisi. In tempi di crisi, le persone sorde in tutto il mondo sperimentano deprivazione linguistica, svantaggi socio-economici e audismo, ossia la discriminazione nei confronti delle persone sorde. Pensiamo all'emergenza sanitaria per il Covid-19, che non ha fatto altro che mettere a nudo e amplificare le discriminazioni che vivono ogni giorno le persone sorde in ogni ambito della vita, a cominciare dalla salute all'informazione. Pensiamo poi alla comunità sorda ucraina e ai rifugiati sordi che nella tragedia della guerra hanno vissuto e stanno ancora vivendo l'ulteriore disagio delle difficoltà comunicative, oppure agli effetti del cambiamento climatico che ci riguardano tutti, come gli eventi climatici estremi sempre più frequenti. Oggi vogliamo sottolineare l'importanza di garantire, durante le diverse crisi che affrontiamo in questo periodo così complesso, i diritti umani di tutte le persone sorde. Grazie a tutti.